C'è chi ha ideato momenti di scarabocchio, passeggiate lente, ginnastiche dolci o semplici momenti di condivisione. Riconsiderare i ritmi che scandiscono le nostre giornate e riflettere sui danni economici, ambientali e sociali causati dal vivere a folle velocità. Sono questi gli obiettivi della sesta giornata mondiale della lentezza, che si è festeggiata, non a caso ieri, lunedì, giorno più frenetico della settimana, con numerose iniziative in molte città italiane e nelle maggiori capitali mondiali. Anche a Macerata, seppur non sia una città propriamente connotata da frenesia e movimento, le associazioni Macerata in Transizione, Ciclostile e Gruca Onlus, con il patrocinio del Comune di Macerata, hanno voluto creare una serie di appuntamenti per rallentare la giornata e riconquistare ritmi più piacevoli e umani. Dalla lettura di poesie, nella biblioteca Mozzi Borgetti a cura di Sergio Labate dell'Università di Macerata, alle visite guidate al Museo della Tessitura, unico laboratorio delle marche a praticare ancora l'antica tessitura a licetti. E poi le lavorazioni con ferri e uncinetto proposte dal fiorile. E per concludere, una passeggiata in bici per il Centro Storico di Macerata, per vivere la città diversamente e rallentare le emissioni di CO2. Noi dell'associazione Ciclostile ci proponiamo di far vivere ai cittadini la città in un modo non necessariamente più lento, perché la bicicletta non è necessariamente sinonimo di lentezza, ma in un modo più morbido, più partecipato anche alle bellezze della città. A chiudere la serie di iniziativa Macerata è stato lo spuntino condiviso accanto al Lumacone, neanche a farlo apposta, di Piazza Mazzini, accompagnato da improvvisazioni musicali. La sesta giornata mondiale della lentezza nasce da un'idea di Bruno Contigiani, fondatore dell'associazione di Pavia Vivere con Lentezza, che da anni sviluppa una serie di attività nel sociale per sensibilizzare su queste tematiche.